Bella ragazzi, qui è DROPS, sono tornato con un nuovo video su un nuovo gioco, ovvero Pro Evolution Soccer 2014. So che a molti di voi non piacerà PES, in effetti neanche a me piace molto, infatti preferisco prevalentemente... cioè preferisco senza dubbio FIFA. Ho provato a scaricarmi FIFA 14 sul PC, però funziona, però ogni volta che cerco di avviare una partita non si avvia. Crash. Mentre invece PES non mi ha dato questo tipo di problema, quindi mi accontento di questo. Quindi iniziamo una partita, un'esibizione classica, faremo a discapito dei laziali un bel Roma-Lazio, in cui io governerò la Roma proprio. In questo video, a parte diciamo... appunto portarvi un po' di stacco, diciamo da... Aspettate un attimo eh. Io metto sempre Superstar però che è... È noioso, provo a mettere campione, dai. Ah, qui, condizioni casuale. In questo video volevo parlarvi di una... cioè di una, diciamo, una rivoluzione in... In casa... diciamo Drops and Page. Perché... Aspettate, rigori sì, 10 minuti di campione, ok. Eh, voglio parlarvi di una rivoluzione, perché non siamo più in... in due, ovvero non siamo più Drops e Page. Ma è entrato, diciamo, nel canale anche un... nostro amica. Sì, un nostro amico, ovvero... ZW Pixel, nonché membro del nostro clan... Cioè, un nostro grande amico che conosciamo da... Due anni, minimo. Comunque... Appunto, il nome del canale, diciamo... È stato cambiato, abbiamo deciso di comune accordo di... Ovviamente non potevamo chiamarci Drops, Page and Pixel. Abbiamo deciso di chiamarci The Amazing Channel. Un nome così, zuogo. Ovviamente, per tutti i tifosi della Roma, sapranno che... Questa è la formazione titolare. Le sa, Gervinio, no, Borriello. Lo voglio levare. Dov'è? Destro. Perché su questo gioco è completamente buggato. Cioè, destro, ad esempio... Cioè, vabbè. Un gioco non è buggato, però comunque è ben fatto. Bene. Calcio d'inizio. Ehm... Appunto, siamo... Diciamo, saremo in tre. Se non mi... se non erro il... Cioè, appunto, Pixel ha già caricato un video... Ha già caricato un video di... Di Call of Duty Ghost. L'ha preso, diciamo, subito al lancio. Quindi dovremmo essere in... Diciamo, non più da soli in due, ma in tre. Inizia la partita. Aspettate un attimo che... Abbasto... Il derby della capitale è, ovviamente, molto di più di una semplice partita. Basta girare per la città per rendersene conto. Dov'è? Ogni volta può salvare, può contribuire a salvare, a dare senza una stagione interna. Perfetto. Possiamo iniziare. Io, ovviamente, se non si fosse capito, sono un romanista accanitissimo. Palla a destra. Si sono tolti palla a vicenda. Allora. Qui, ovviamente, ora... Eh, Calli. Attenzione. Close, 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 close. Contropiede. Il contropiede della Lazio! Quale gioco? Mamma mia, ragazzi. Già l'ho vista dentro. Mamma mia, di quanto... Di quanto mi sono salvato. Comunque, grande parata di De Sanctis. Dimostra che di essere già in partita. Poi qua Mauri, ovviamente, prende il palla e non si sa come la palla finisce in rete. Comunque, De Sanctis. Il passaggio per... De Rossi. Dianic. Uppieri di Hernanes, proprio. Il pallone con facilità. Il Giotto. Giotto. Giotto per destro. Giotto per questo piede di Biava. Ragazzi, io non sono un ragazzo... Cioè, non sono un giocatore che ama il... Tichitaka. Infatti, diciamo, cerco sempre di andare in... In contropiede, diciamo. Oh, copri, Mauri! Qua ricciola ancora. Gervinio. Totti. Destro! No, Radu, cazzo. Marchetti. Grande recupero della difesa. Marchetti. Eh, cazzo. Spazzato. Pianic. Giotto. De Rossi. Destro! Niente. Non riusciamo a... A ottenere spazio. Close. 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 Hernanes per Mauri! Cioè, la buona chiusura di Benaglia. Buono. Balzarete. Poi c'è molto lento, davvero molto lento il gioco su PES. Per essere un gioco di calcio, di grafica, è davvero... Cioè, per stadio, per grafica... Non ha niente a che fare, Mauri! De Santis, chiudi bene. Bravissima. Destro. Pianic. Pianic ha visto Cervinio. 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 Cervinio è da solo. Cervinio. Oh, è un arbitro. Cervinio rientra. Di destro! Cazzo. Però dai, era un po' a fallo quello. Arbitro. Vediamo un po'. Riusciremo. Ma è gone. Cicca il pallone. Bene, andiamo. Ok. No, Balzarete perde palla. Candreva. Candreva, 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 Candreva. Conco. Pianic. Castan. Mamma mia. Pianic. Ok, Pianic. Corriamo un po' di più anche noi, ragazzi. E il pallone viene recuperato. Struttman, Hernanes, Candreva, Mauri. Ok, my gone. Perché poi my gone, capitano? Balzarete. Allarga per Pianic. Pianic. C'è la miseria, Cervinio. Passala, passala, passala. Bravissimo. Dai, Cervinio. Cervinio contro Conco. Cervinio contro Conco. Cervinio gli ruba palla. Cervinio. Se ne va con una finta. Cervinio. Cervinio. Il tiro. Tira, 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 tira. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo cosa si è mangiato destro. Non ci credo. Non ci credo. Non ci posso credere. Dunque, ragazzi, questo video durerà eppure parecchio. Cervinio. Dunque, ragazzi, ritornando a Pianic, che... Vabbè. Ritornando al tema principale del... Non era fallo, rialzati. Non avevamo attenzioni, bisogna dirlo. Vai, Cervinio. Destro! 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 Go! Matti a destro! 1-0! 1-0! 1-0! Mattia, quanto sei brutto! Matti a destro! Scusate le magliette, ma non... Cioè, non ne curo tantissimo. Cioè, i numeri delle magliette, volevo dire. 1-0! Druma Lazio! Comunque, ragazzi, stavo dicendo, ritornando al... Al tema principale del video, ovvero l'entrata di... L'entrata di ZW Pixel... Oh, dai, Cervinio! Ritornando all'entrata di ZW Pixel nel canale. Ovviamente per motivi di puro sdrogo e di... E di... Vabbè, ovviamente di spese monetarie. No, non vedo, sto raccontando cazzate. Il cross, Castan, fai buona guardia, ok. Gervinio, Gervinio, De Rossi, De Rossi. Destro, destro! Dai, però, arbitro, arbitro! Signore! Capito che non ci vuole dell'astu, però... Porca puttana! Fuori area, dai! Benadia, cartellino giallo per Benadia. Benadia si arrabbia, signori, si arrabbia. Ok, attenzione, adesso presuppongo ad Hernanes. Hernanes, signori. Hernanes, il tiro! Fuori! Vediamo un po'. Non so se dire sia fuori di poco o di tanto, perché su questo gioco davvero non so nada. De Sante, guardate, la posizione del portiere è qualcosa di davvero stupefacente. Benadia. Balzaretti, De Rossi, Pjanic. Pjanic l'ha visto? È partito Balzaretti troppo lungo. Giotto, mi smigliora di i piedi. Conco. Gervinio. No, dai, chiudi, chiudi. Io sono un allenatore in campo, ragazzi, non lo dico così. Comunque, stavo dicendo, ritornando sull'argomento principale del video, ovvero l'entrata di ZWPixel nel nostro canale. Pallo, non era pallo, vabbè. Appunto, non è stato assolutamente, diciamo, una cosa programmata, anche perché ieri sera Page mi ha chiamato su Skype. Il passaggio per destro, 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 destro. Ero troppo lungo. Mi ha chiamato su Skype e mi ha detto, guarda, abbiamo... Cioè, vorresti far entrare, appunto, che potremmo far... Condividere i nostri video anche con... Oh, destro, destro, grande azione. Destro, destro, destro. Faila tutto con Andrea Dias. Dai, Pjanic, dai, Pjanic, dai! Ok. E, appunto, mi è venuto e mi ha chiesto che ne dici di... Mi ha fatto, appunto, la proposta, io ce l'ho riflettuto. Poi, diciamo, è stato preso, comunque, di comune accordo di accettare, perché, cioè... È un nostro amico che è forse uno di quelli che conosciamo da più tempo. Quindi, cioè, non mi sembrava anche... Cioè, non ho visto nessun inganno dietro, comunque. Comunque, ragazzi, primo tempo, Roma-Lazio, 1-0. Non so se interrompere il video qui, perché sono già un dici minuti. No, dai, andiamo avanti, carichiamo un bel video lungo. Spero, ovviamente, che la partita vi stia piacendo. Se, ovviamente, scrivetemi nei commenti se vi piace vedere questi video anche di calcio. Perché, ad esempio, a me piacciono tantissimo. E, anche, diciamo, consigliatemi le squadre da usare. Ok. Benatia. Dias. Biava. Comunque, un pensiorino ai nostri carissimi cugini a meno 16. Bam! Dopo di questa 100.000, non mi piace. Oh, la busta! Cioè, destro, destro, dove vai? Destro! Oh, la finta! Destro! Eh, sì, per Totti. Esce il portiere, no. Biava contro Totti. Biava! Si beve Totti. La risolve lui. Cazzo. Oh, oh, oh. Cresci alle desce. Aia. Dai, 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 dai. De Rossi sei da solo. Piano. Piano, che eri da solo, eh. Eri da solo. Grande, Castan. Ok. Dai, De Rossi, per favore. Alvaro Gonzalez. Non era fallo. Dai, non era fallo. Arbitro. E ovviamente fallo. Eeeh, Scaramucci. Fra Gonzalez. Guardate, Rossi, quanto è fatto male. Mamma mia. Era fallo, ovviamente. Ha preso il pallone. Lui è saltato. Poi sta cosa, no, cioè. Su FIFA simul... Cioè, su PES, scusatemi. Non è che simulano, ma quando gli fai una scivolata. Cioè, sembra quasi che li hai fatti volare. Non è... Oh, Cervigno! Oh, Cervigno! No. Accidenti. Destro. Destro. Ma che destra? E' Totti questo. Destro si ferma e Biavalo lo ferma anche. Cioè, è una partita molto noiosa. Di solito, già, riesco anche a fare 3-4 gol, così. Cervigno. Dai, De Rossi. Bravo, De Rossi. Francesco. Francesco! Niente. Ha un controllo palla davvero pessimo, Francesco. Totti, questo gioco. No, Castano ha sbagliato a scivolare. Close, close, close. Tiene chiuso da Castan, per modo di... Grande Castan. Struttman. Si fa passare la palla in mezzo alle gambe. Cosa fai, Totti? Biavalo contro destro. Biavalo contro destro. Grande destro. Che è? Calcio d'angolo? Spero. No. Si, calcio d'angolo. È pronto per la battuta del calcio d'angolo. Buono, Francesco Totti da calcio d'angolo. Attenzione. Cervigno svetta di testa. Niente, allontana la Lazio. Leandro Castan. Andiamo un po' a riuscire a recuperare palla. Pallo laterale per la Lazio. Sessantaduesimo. Stagli attaccato. Il bello di fesso è questo. Si sente proprio l'allenatore che dice, stagli attaccato. È una cosa davvero molto ganza. Molto figa. Però ovviamente non può neanche, secondo il mio modesto parere, non può neanche competere con FIFA per quello che hanno creato quest'anno. De Rossi. De Rossi cerca di velocizzare. Totti. Cervigno gli toglie palla. Cervigno. Balzaretti. Arretra. Oh, Piani. De Rossi. De Rossi. Strootman. Cerca ancora De Rossi. Non trovano i varchi. Eccolo qua. Totti. Maicon. Niente. La ripasso a Totti. 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 Cerca il sinistro. Marchetti sicuro. Marchetti davvero ottimo portiere. Che sicuramente avrò nel mio ultimate team di FIFA se lo prenderò. Mauri. 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 Mi fa la Veronica. Veronica su Maicon. Non ci posso credere. Attenzione. Radu contro Castan. Castan la chiude benissimo. De Santis spazza. Ai ai ai. Ci prova. Ok. Alto, 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 alto. Ha sparato alto. La difesa ha avuto un attimo di esitazione. Non sapeva risalcarsi o rimanere a protezione dell'area di rigore. Per invitarvi al tiro dalla distanza. Ok. Destro contro Diaz. Vince destro. Ma la passa a... Non si sa chi. Grande Piani. C'è recupera palla. Struttman. Totti. Totti è partito. Grande lancio di... Destro. Totti. 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 Il cross. Non c'è nessuno. C'è il Cervigno. Che fail ha il salto. Ok ragazzi. Sostituiamo un po' di giocatori perché vedo che sono molto affaticati. Primo su tutti appunto. Destro. Dov'è l'Iach? Lopez. Non ho l'Iach. Porca puttana. No io a Lopez non lo metto. No no no. Rimaniamo così. Merda. Non c'è più l'Iach. Ho lasciato proprio in tribuna. Porca puttana. Che rimessa lunghissima. Maicon. Maicon. Totti. Totti. Potrebbe tentare. No. Lo anticipa. È un'autentica mina vaganti in area di rigore. Grande Pjanic. Gioco. Gioco. Attenzione al contropiede della Lazio. Il settantasettesimo. Lo spreca. Malissimo. Totti. Sbaglia. Oh ma Totti sta giocando davvero male. A parte che sta correndo come un forzennato. Maicon. Maicon. Fa buona guardia. Attenzione. Mauri. Mauri versus Struttman. Mauri. Hernanessa. Attenzione. Attenzione al contropiede della Lazio. Attenzione al contropiede della Lazio. Cosa sta facendo? Candreva. Aia close. Tiro fuori. Secondo tiro di porta della Lazio. Credo. Cambia di giocatore. Dentro Ma... No. Dentro Lulic. Fuori Mauri. Buono. Ok. Destro. Oh. Passa la palla. No. Gervinio. Ruba palla. Gervinio. Gervinio. Cos'era? Cos'era quel tiro di merda? Guardate come la... Vedete come... L'ha proprio disturbato il difensore. Porca puttana. Ottantunesimo. Roma-Lazio. Ancora 1-0. In caso di pareggio si andrà direttamente ai rigori. Attenzione. Maicon chiudi. Benatia. Ok. Benatia. Balzaretti. Pjanic. Gervinio. Dei Rossi. Cazzo. Intervengono... Unque è una bella partita ragazzi. C'è. A mio... Oh. Era fallo. Dai. Arbitro. Era fallo questo eh. Oh. Totti. 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 Tiro fuori. Schifo. Che schifo Francesco Totti. Tia no che schifo. Però dai se fai schiedire di merda. Altra sostituzione. Dentro per Irigna. Fuori che andreva. Che cosa si è servita. De Rossi. Totti. Totti. Ha visto il lancio di destro? Destro. 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 Al volo. Mamma mia ragazzi. Abbiamo degli attaccanti davvero pessimi. Perca miseria. 87esimo. La Roma si appresta a vincere questo derby. Close contro Benadia. Vince close. Attenzione. Strootman. Ottimo intervento. Totti. Può partire? Sì. Per cazzo che può partire Totti. Ledesma. Hernanes. Chiuso da Benadia. Non è vero. Gonzales. Prova con un po' sulla fascia. Gonzales ancora. 88. Scocca adesso il novantesimo. Tre minuti di recupero. Totti intercetta. Totti incertetta Totti. Siamo andando nel tempo di recupero. Dai ragazzi. Manca due minuti alla fine della partita. Due minuti alla fine della partita. Radu. Gervinio tiene palla. Tieni palla. Perci De Santis. Spazza De Santis. Oh tre minuti dai. Siamo finiti. La Lazio va a caccia di l'ultimo. È finita così. 1-0. La Roma vince il derby contro la Lazio. Anche se è abbastanza palzato. Qui vediamo le statistiche. Possesso palla leggermente superiore al mio. Lui due tiri in porta. Io quattro falli. Un calcio d'angolo per me. Termiamo. Paggella dei giocatori. Uniamo destro. Poi 7. Quindi... Niente ragazzi. Questo qua è stato un video per informarvi appunto che il canale ha cambiato nome. Che non siamo più in 2 ma siamo ben in 3. Vi ricordo ovviamente di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Di commentare dicendomi quale altra partita potrei fare nel prossimo episodio. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Vi lascio il link della nostra pagina Facebook in descrizione. Niente. Qui da Dropix è tutto. Bella.